Salve ragazzi, rieccoci, ieri ho fatto l'esito del tampone e purtroppo sono ancora positivo al coronavirus. Non so, guarda, purtroppo un'altra settimana di quarantena forse mi toccherà. O dura, o fra tre giorni dovesse succedere qualcosa, chissà se accadrà un miracolo. Già, il senso del gusto già ce l'ho. Il mio primo sintomo se n'è andato, meno male. Purtroppo dovrò fare ancora altri giorni di quarantena e vediamo se tornerò negativo. Comunque io vi ringrazio a tutti che mi sostenete così tanto. Io non vi abbandono. Sarò sempre a volervi bene. Detto questo, partiamo subito con i pronostici. Ci sono Empoli-Spezia, Inter-Ella-Severona, Cagliari-Juventus, Genoa-Lazio, Venezia-Udinese, Sassuolo-Atalanta, Napoli-Fiorentina, Roma-Salernitana, Torino-Milan e Bologna-Sampdoria. Empoli-Spezia, guarda, sono due squadre che giocano, dicono bene, di più le Empoli, guarda, Spezia dico che sta in forma. Per me segnano entrambe, sia le Empoli che lo Spezia, golle entrambe giocate. Inter-Ella-Severona. Viene da una rapina contro la Juve l'Inter. Io mi sono messo a ridere di come ha vinto l'Inter a Torino, guarda. Vabbè, tanto l'Inter rimarrà la squadra più corrotta d'Italia, dico solo questo. Vabbè, detto questo, ormai è passato. Inter-Ella-Severona. Guarda, se giocano come contro la Juventus-Allianz Stadium, di sicuro al 90% non lo vinceranno questa partita. Vabbè, tanto l'unica pecca che ha l'Inter è che hanno dei culi rotti, posso dirlo, eh. Così hanno. L'ha dimostrato con il Liverpool e l'ha dimostrato con la Juve. Uno, dai, l'ho segnato. Cagliari-Juventus. Dopo che abbiamo subito la rapina contro l'Inter, tanto per me questa sconfitta è indolore, dato che abbiamo fatto una grande partita contro i prescritti. Cagliari-Juventus, due. So bene che Morata è esperto, ma di ammunizione è diffidato. Dal giudice sportivo è stato squalificato De Sciglio. Non so perché, ma chissà. Purtroppo io non l'ho visto. Adesso, l'ho detto, c'è da difendere il quarto posto perché la Juve è padrona del proprio destino per la zona Champions. Genoa-Lazio. X2 più Under 4,5. Per me questa partita è anche da Under. Può succedere uno 0-0, uno 1-1. Uno di questi due risultati dico 0-0 o 1-1 tra Genoa e Lazio. Venezia-Udinese. X2 più Over 1,5. Se finisce 1-1 lo prendo. Per me l'Udinese parte un po' forte. Venezia ormai è quasi quasi in Serie B, guarda. Sassuolo-Atalanta. Over 2,5. Sono due squadre che giocano bene. Può succedere di tutto. È da tripla questa partita. So bene che l'Atalanta è una squadra discontinua. Over. Viene da una partita contro l'Ipsiac da 1-1. Napoli-Fiorentina. Goal. La Fiorentina so bene che gioca bene con Vincenzo Italiano. Un gol lo può fare la Fiorentina. Anche il Napoli. Segnano entrambe. Roma-Salernitana. Uno più over 1,5. 2-0 Roma dico. Con assegno Mkhitaryan e Tammy Abram. Torino-Milan. X2 più over 1,5. Per me può succedere un 1-1. Ho giocato una doppia con over. E l'ultimo è Bologna-Sampedoria lunedì. Goal entrambe. Per me segnano entrambe. Ok ragazzi. Questi sono i pronostici per quanto riguarda la 32esima giornata di Serie A. Non le giocate tutte. È solo un gioco e vediamo di vincere. Ragazzi. Spero che il mio video vi è piaciuto. Lasciate un like al video. Commentate. Iscrizione al canale. Se siete nuovi. Se siete già iscritti. Cliccate subito la campanella. Per non perdervi altri miei prossimi video che usciranno. Seguitemi sia su Facebook che anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. Fino alla fine. Vamos suve. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.